Riunione della Commissione Vigilanza questa mattina in Regione per parlare ancora una volta della faccenda a Gran Sasso con tecnici, commissario straordinario, Ruzzo Riti e Gran Sasso Acqua. La notizia della riapertura del traforo alla completa circolazione rimanda solo il problema perché le indagini andranno comunque fatte, ma è oggettivo che serve qualcosa in più anche alla luce della situazione della SS80 alle capannelle per programmare la viabilità. Il Consiglio regionale della Lega, Carla Mannetti ad esempio, propone un tavolo permanente. Ma sicuramente è utile questa convocazione della Commissione Vigilanza perché si condividono dei percorsi sia all'interno della maggioranza che della minoranza. Ovviamente le opere riguardano due commissari che rispondono direttamente al governo, però la Regione è direttamente interessata. Io credo che sia necessario istituire subito un tavolo di coordinamento della viabilità perché ci sono problemi a 360 gradi, abbiamo problemi sulla strada statale 80 con i cantieri di ANAS, abbiamo i problemi legati alle gallerie del Gran Sasto e quindi solo in questa maniera si può riuscire a superare le problematiche legate alla viabilità e a dare delle soluzioni che vadano incontro agli utenti che in questi giorni hanno subito veramente dei disagi pesanti. Molto critico invece il Consigliere regionale Pierpaolo Petrucci su come è stata gestita in toto la situazione. Intanto è mancata completamente la cabina di regia da parte della Regione Abruzzo che, a detta del dottor Caputi, d'aprile sapeva che chiudevano il Gran Sasso a settembre e non ha assolutamente messo intorno a un tavolo l'ANAS, la strada dei parchi, i commissari perché è l'unico caso in cui ci sono due commissari, la A14. Contestiamo poi che non c'è stato un accertamento della viabilità, non è possibile che si sapeva che chiudeva il traforo e non si sapevano le condizioni e lo stato delle capannelle. Poi contestiamo i lavori che si stanno facendo sul traforo, perché si devono fare quei lavori e chi lo ha detto, chi lo ha stabilito, dove si è deciso. Il decisore politico deve essere messo a conoscenza dei lavori che si vogliono fare su una montagna già deturpata nel corso degli anni. Per quel che riguarda il fattore ambientale e acqua, la Ruzzoreti dovrà fare tutti gli accertamenti del caso per capire cosa sia successo in realtà. In questo discorso è coinvolta in parte anche la Gran Sasso Acqua che si è messa subito a disposizione. Nella gestione dell'emergenza si era già preventivato una procedura che era quella che in caso di problematiche avvisassimo l'ufficio commissariale e si sarebbero attivate tutte le misure per interrompere i lavori. Noi preventivamente abbiamo massimizzato la scorta idrica dei nostri serbatoi, facendo anche delle chiusure notturne e qui colgo l'occasione anche per scosarmi con l'utenza, ma era necessario farlo. Sull'evento del 2014 non abbiamo avuto problematiche, sono piccoli picchi, rilevi, ma ben al di sotto di quelle che sono le soglie massime, per cui non abbiamo dovuto fare interventi. Ci siamo essi a disposizione dell'ufficio commissariale e della Ruzzo per collaborare e anche per verificare bene che cosa è successo, ma per quanto riguarda la zona dell'Aquitano non abbiamo avuto nessun problema.